Borse europee contrastate in questo finale di settimana, i listini non sembrano prendere una direzione precisa dopo i timori nati durante le negoziazioni per il salvataggio di Cipro e l'insolita notizia dell'intervento di tre banche greche che acquisteranno le filiali di quelle cipriote nel paese ellenico. Piazza Affari con un più 0,67% è la migliore della seduta, di poco sopra la parità a Londra, in rosso Francoforte meno 0,27% dopo i dati negativi sulla fiducia delle imprese tedesche, male anche Madrid e Parigi che perdono rispettivamente lo 0,26% e lo 0,06%. A Milano raffica di acquisti per Ferragamo dopo la pubblicazione dei risultati 2012, bene anche Fiat e Generali, tra i ribassi svettano invece i titoli bancari, Banco Popolare, UbiBank e Unicredit. Buone notizie sul versante titoli di Stato, lo spread BTP Bund è sceso sotto i 315 punti base, euro su dollaro stabile a 1,29.